Non solo bevande in grosso, via Carducci 37 San Giorgio Ionico Taramp. Offerte incredibili, bevande di ogni genere, vari tipi di acqua minerale, numerose marche di birre e bine rinomati e ancora bevande tipiche della Romania, i tuoi rivali. Qualità e convenienza mai viste. Per la tua festa, kit promozionale in offerta speciale. Bevande, più piatti, bicchieri, tovagli e tovaglioli con i tuoi personaggi preferiti a scelta, tutto a soli 25 euro. Inoltre, vi offriamo i seguenti servizi. Punto ricariche telefoniche, pagamento bollettini di ogni genere, anche bollo auto. Noleggio auto a breve e lungo termine. Vi aspettiamo per stupire. Venite a trovarci!